e questo piccolino qui piccolino che belli questa questa qua dai 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 questa qua bianca però decisa piccolina ma decisa piccolino c'è il maialino ecco la capretta ah no è un bambi no eh ma prima che arrivi quella arriva agli altri no perché le zebre no ma che cosa hanno ma qua non ci viene nessuno ciuscici ah che ciuscici ciuscici dovrei passare eh ma quelli lì non può neanche dargli niente per accontentarli cioè bisognerebbe anche non lo so ah gli struzzi non bisogna dargli a mangiare questo qui infila dentro la testa lo struzzo mi spiace non posso dargli niente la zebrina guarda i capelli dritti come un cavallo zebra niente da mangiare torro mettila sotto no non si può mettere le mani fuori sono gli struzzi guarda dai struzzo il torro è che soffione oh c'è sempre vicino agli sportelli che ci viene dietro ma che maialino ma che maialino bruttino mi danno un'incornata mi è rimasto questo pezzo qua ma non so perché ma sti qua le lo pigliano cioè scappa dopo il pezzo sta mucca qua mi interessa ma che le mucche le piccoline ciuppi no questi fanno una bella vita questi si sono piazzati però se non avessi il vetro e le tarievo una linguata potrebbe anche entrare si potrebbe entrare con la macchina che sai che sgraffignato sulla macchina di piazza guarda questo fa proprio un'offertona con l'alice ha tutti i capelli in faccia sembra anche incazzato tra che maialino qui ci sono ci sono quelle alci ci sono i bambi è bello questo ma che bambi un cervo ha fatto la scimmietta ah la scimmietta si stenta è questo vabbè vola ha fatto attento di sputa in faccia ha fatto adesso arriva non è qui di sputare le vattene puzzone c'è il bisonte ha fatto questo qui fa un monosgrafio sulla macchina davvero un bloc a pote lingua nera porca varie sai cosa ha mangiato no i porcellini qua si stanno andando tutti ha fatto venire qua non mi dà niente io mi metto davanti alla macchina ha fatto il bisonte questo è arrabbiato anche bene con la macchina lo scarfone ma si possono toccare gli animali dopo venivano gli scarfoni no non c'è niente da mangiare ma questa assomiglia a questo caso assomiglia a giusti grigio ma ecco non c'è niente a mangiare no la nostra macchina come quella lì ho bisogno allora sono una bella idea a venire ha fatto questo oramai mi serve perché gli ho dato una patata allora metti la mano fuori e poi lì è un cino appena assai la sbadiglia ce l'ho uno solo però una scimmiottina sciuschi capretta salta 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 già c'è più da mangiare no tiri e leone stanno insieme non si fanno del male c'è il leone qui solo dai capretta salta salta ciao bellissimi oh che zampotte che codina ma chi ha la codina che non sia un altro rimane tipo la lince no è una tigretta piccola colina colino colino nooo guarda lo struzzo c'è però le zampe da dinosauro uguali attesto lì non lo sputo ha delle zampe di dinosauro puro oh guarda le zampe sono a triangolo come dinosauro no si dinosauro puro ora stiamo andando ai cammelli sali scimmia questo è un cammello un dromedario con una goba solo il cammello ha due gobe il dromedario ne ha una no ma come sarebbe intenzionato ma c'è il porcellino dentro i maialini piccoli vengono salsicce buone sono nascosti dietro ah eccolo la paglia gioca ora tolà tutti i bini c'è via a mangiare la madre la paludona trinoceonte un tipino molto ti ha giù il vetro oh l'animale è pericolosissimo bisogna tirare su la rinoceonte voglio prendere meglio ciuschi posso tirare su? posso dargli un bacino? questa è la nostra macchina bruttissima la macchina tutta sgraunza che freddo vogliamo prendere niente? si è preso un hot dog sono preso una ciocco grazie ciao ciao ciao